Prima la sbronza, poi la lite in casa, quindi la coltellata, è stata una notte agitata a Lusiana Conco nell'abitazione condivisa da due muratori. Intorno alle due della notte scorsa si è reso necessario l'intervento dei carabinieri, allertati con una telefonata alle centrale operativa del 112 effettuata dalla persona ferita. I militari dell'arma sono intervenuti in dieci scatti nella trazione di Conco, presso il domicilio del 34enne C.E. le iniziali. L'uomo presentava una vistosa ferita da taglio alla spalla, colpito a suo dire con un coltello da cucina del suo coinquilino di 35 anni. Le cui iniziali sono D.I.P. nel corso di un litigio. I due sono entrambi operai dipendenti di una ditta edile del posto e le cause della lite al momento non sono note. Quello che è certo per i militari è che lo scontro è avvenuto comunque in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'aguto di alcol. Prontamente soccorso il ferito è stato portato al pronto soccorso di Bassano del Grappa, dove è rimasto qualche ora per una ferita la scapola destra giudicata guaribile in una settimana. La mattina successiva i carabinieri della sezione operativa hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione dove è venuta l'aggressione. Al termine delle indagini militari della stazione di Lusiana, insieme a quelli della radiomobile Bassano, hanno denunciato il 35enne la procura della Repubblica di Vicenza per le azioni personali. Haltatello! . . . Grazie! .